Eccoci, Ferre, finalmente siamo arrivati al laboratorio, sei pronta a rivedere i dinosauri nel mondo? Come i dinosauri, Steph? Sì, li ricreeremo! Ma non esistono più, si sono estinti! Lo so, ma basta studiare la scienza come si deve, tramite il DNA si riescono a ricreare, lo sa chiunque, Ferre! Ma non è che è pericoloso, Steph? Beh, quello può essere! Sono cattivi i dinosauri, avranno fame poi! È vero, però sono belli, e quindi ne vale la pena! Sì, sono d'accordo, sono d'accordo! Ok, meno male che non sei una intelligente che dice, no, Steph, non è una buona idea, però non si fa, perché altrimenti non ci serve il divertimento! Comunque, stiamo andando da Dottor Lucas! Dottor Lucas è la persona che ci aiuterà, appunto, a far tornare i dinosauri! Ferre, lo so che hai problemi con quelle porte, però... No, mi si è chiusa in faccia dopo che l'hai aperta tu, ma che vuoi, Steph? Cerca di seguirmi! Quindi, ti dicevo, lui è Dottor Lucas ed è ovviamente un paleontologo, Ferre, ok? Sì, sai che cosa sono i paleontologi? Sì, quelli che studiano la scienza dei dinosauri! Brava, che voto ti do? Un B, B- Non è proprio quello, diciamo, penso che il paleontologo si occupi... I fossili in generale, Ferre, esatto, 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 comunque ci darà una mano! Quindi iniziamo a parlarci e vediamo cosa ci dice, benvenuto, Steph, il magnifico! Grazie mille! Stavamo aspettando con ansia che i tuoi ferrenicchi arrivassero qui al laboratorio! Grazie! Avete viaggiato molto per assistere e partecipare alla creazione dei dinosauri! Sì! È proprio vero, abbiamo fatto un viaggio lunghissimo da casa nostra, fino a qua è stato faticoso, però i dinosauri ne vederà la pena! Assolutamente sì! Non vediamo l'ora, felice di sentirlo! Seguitemi all'interno e vi spiegherò come creare i dinosauri nel nostro laboratorio! Si fa già interessante, Steph! Va bene, dottor Lucas, è di qui, giusto? Sembra molto professionale, quindi mi fido! Vado a fare? Sì, dai, c'è solo questa direzione, quindi sarà questo! Guarda che bel posto, Steph! Esploriamo un pochino! Allora, qua c'è stanza dei test! Ok! Qua c'è un'altra porta che però non ha cartello, quindi chissà cosa c'è! Entriamo, Steph! No, fare, 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 non farà arrabbiare, non farà arrabbiare! Quando me c'è qualcosa di bello, vini! No, ma qua ci sono cose strane! Non toccare, Steph, però, eh! Ma non si aprono le ceste ai laboratori, Steph, potresti esplodere! Ma c'è del DNA qua! DNA di dinosauro! Steph, non devi toccare nulla! Ok? Non si tocca niente! E la parlo con dottor Lucas! E poi eri tu che volevi andare in giro per le stanze! Ma io volevo andare solo in questa! E se c'è un dinosauro vivo lì? Che fai? E io ci vado! E lei ci va! Il primo passo per creare i dinosauri è estrarre i fossili! Lo sapevamo, lo sapevamo! Abbiamo già preparato e pensato a tutto noi! Ma per farvi un'idea di come funziona, estraete qualche fossile che abbiamo trasportato qui per voi! Ma sono super efficienti, Fere! Certo che sono efficienti! Quindi! Vedi, sicuramente le cose che tu hai visto frugando nelle ceste dove non dovevi frugare, Steph! Ok! Sono le cose che loro hanno già raccolto! Ma ovviamente ci vogliono far fare un'esperienza diretta per la creazione! Ok, allora prenditi il piccone! Ok, perfetto! Credo che appunto dobbiamo distruggere questa pietra che se noti è un po' particolare! Sembrano delle rocce molto antiche! Esatto! Sicuramente, andando a distruggerle... Oh! Oh! Guarda, Steph! Io ho trovato un fossile di una pianta! Io, un biofossile! Ma il tuo è più interessante! Vediamo se trovo qualcosa di meglio! Che cos'è questo? Un relic scrap! Credo sia totalmente inutile! Attenzione, ho trovato anche io il tuo! Il biofossile! Oh yes! Questo sembra più interessante! Ok, anch'io due relic scrap e due biofossile! Ok! Poi un osso anche così random! Quindi il relic scrap l'ho trovato solo... Cioè, il plant fossil l'ho trovato solo io! Forse anch'io adesso, aspetta! Non è vero! Ma facciamo tutto, Steph! Vabbè, ormai! Ormai! Vediamo se troviamo qualche... Io non credo che ci avessero detto scavate tutto, però... Ok, fatto! No, ce ne mancava un altro! Ok, ok! Avvisiamo che abbiamo finito, Steph! Quindi, abbiamo finito! Ora che avete visto come raccogliamo i fossili... Sì, è stato molto interessante! Esatto! Ho messo alcuni biofossili in una cesta preparata apposta per voi! Così potrete metterli nell'analyser e cercare di ottenere un po' di DNA! Ferre, si sta già facendo complicata la situazione! Eh beh, cosa pensavi? Io ero venuto qua a vedere i dinosauri già pronti, dottor Lucas! Si sono estinti, quindi vanno ricreati! E' ovvio che è un qualcosa di scientifico molto complicato! Che pensavi di arrivare qua? Sì, ho caledite trovando inodauro, Steph! Io sto leggendo, ma non ho capito! Otterrete diversi tipi di oggetti, ma quello che stiamo cercando è solo il DNA! Ok! Il DNA è molto raro da trovare! Potrebbe volerci un po' di tempo, ma non arrendetevi! Quindi noi dobbiamo prendere i biofossili, metterli nell'analyser e sperare di ottenere del DNA! Esattamente! Fin quando non l'abbiamo trovato, dobbiamo continuare a provare! Sembra abbastanza chiaro! Ok, quindi devo prendere... E qua è pieno di biofossili! Ok, 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 ok! Perché infatti loro ci stanno facendo vedere! Dirette, ma perché loro avete preso questo? Perché loro ci stanno facendo vedere tutti i procedimenti che dottor Lucas e i suoi colleghi hanno dovuto fare per ricreare i dinosauri! Loro l'hanno già fatto, vogliono soltanto farci rivivere tutte le esperienze anche a noi! Scusami, è come quando vai, tipo... Per essere più rumi! Interessante! È presente quando vai alla fabbrica del latte, no? No, io non ti ascolto! E ti fanno vedere come si fa il latte, anche se poi loro lo fanno! Però la stessa cosa, ti fanno vedere il procedimento! Voi stai andando, Steph! Non devi andare lì! Esci fuori! E dove è l'analyser? È qui, Steph! Davvero? Steph, ci sono dei cartelli! Vieni, vieni con me! No, vieni, vieni! Questo è uno, che vuol dire passaggio numero uno! Ok! Questo è il cartello con un numero due, quindi che cosa sarà, Steph? Fede, se non ce la guida... Diciamolo insieme, Steph! Che cos'è il numero due? Il passaggio numero... Due! Bravo! E qua è l'analyser, ovviamente, Steph! Ma se non ce la guida turistica, che me lo dice? Cosa stai facendo? Ho messo i biofossili! Ok, hai visto che c'è il caricamento? Sì! Abbastanza lunghetto! Vediamo cosa ottengo! Sì, vediamo, vediamo! Adesso ho delle patatine! Ah, vabbè, la bon meal può essere utile! Quindi per ora niente DNA! Arraffiamo tutto, Fede! Arraffiamo tutto, secondo me... Sarà lungo, sarà lungo! Il tuo biofossil non è buono, non troverai Sand! Ok, quindi si può trovare davvero un sacco di roba, perché d'altronde è normale! Ci avevo avvertito che avremmo potuto trovare diversi oggetti, però dobbiamo concentrarci sul DNA! Altra sabbia! Vabbè! Molto bene, molto bene, molto bene! Però in tutto questo... Non ti sei chiesta chi è, dottor Lucas? È come è possibile che c'è un laboratorio che ha ricreato i dinosauri così a caso nel mondo di Minecraft? Non ti sei chiesta qualche domandina? No, non me la faccio mai! Soprattutto quando mi interessa l'argomento per me va bene, in questo caso mi ha incuriosito! Non ho nulla ne a dirti allora, vabbè! Chi è Stef? Abbiamo un nuovo aiutante, Fede! Come un nuovo aiutante? Sì, un aiutante misterioso, di cui i consolini non possono ancora sapere il nome, che appunto... Quindi non si chiama dottor Lucas, è uno pseudonimo? Dottor Lucas è soltanto una persona che lui ha portato qui per farci vedere i dinosauri... Ma la persona, l'aiutante segreto è qualcun altro e creerà tante cose per noi, Fede! Tante cose interessanti e divertenti! Infatti mi sembrava strano che tutta questa preparazione l'avessi fatta tu, sinceramente! No, non so fare nulla di sta roba, Fede! Esatto, mi sembrava che avessi fatto tutta la sua... No, l'unica cosa bellissima è che avendo tutto preparato da qualcun altro, anche noi non sappiamo cosa succederà, non sappiamo i procedimenti successivi ed è bellissimo! Stef, io continuo a fare polmia, le ho 18 qua! Hashtag assistente segreto e poi cercate di novinare il nome! Però mettete l'hashtag assistente segreto così lui girerà i commenti e vedrà tutti i complimenti che li fate per la mappa perché è davvero fantastica! In tutto questo ne abbiamo già dato 10 e ancora nulla! Stef, ho 21 di polmia alle 4 mesi, niente! Allora, sped, 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 lo sappiamo tutti che 53 toccati da te sono un po' brutti e rotti! Ascolta, lo riempiamo di biofossile e lo lasciamo fare? Eh, nel mentre? E nel mentre ci guardiamo! Negli occhi? Eh, vabbè, però aspetta, Stef, ce l'ha detto che ci voleva tempo, non è che possiamo stare qui a lamentarci! No, no, io non è che mi vorrei lamentare, dico solo che qua... Io, Stef, non lo ascolto più e metto tutto nell'analyser! Ma... Se lo riempio? Eh? Secondo te va più veloce Magari A me sembra che Sucede qualcosa A me sembra lento e basta Uuuuh Hai visto? Eh me l'hai rubato però Aspetta ne voglio trovare uno anch'io Però non li do Ter-re-te-teri-zin-osaurus-dna Aspettate Googlalo Perché io non ce l'ho presente Nien che io E voglio essere preparata Voglio capire chi andremo a creare Perché giustamente è randomico Il dinosauro che ci capita In base ai fossili che troviamo Controllatelo mentre si forma il tuo No, solo pull mio Teri Z No, ma è brutto Fallo vedere Ma che schifo Ma è carino Fallo vedere È un piccione con gli artigli Ma che è sta roba Io volevo un bel dinosauro di quelli figli Si è scoperto che i dinosauri avevano le piume Quindi ormai sono quasi tutti piccioni con gli artigli Anche il T-Rex Se ti immaginatelo con le piume e con le zampe capisci Eh ma questo è proprio brutto Lo sto guardando anche su ARC Dai altro DNA È brutto, è brutto, è brutto E non c'è niente da fare Vabbè, vabbè Fere Questo video Sono le 17.47 Vorrei farlo uscire alle 19 Riesci a trovare quel cavolo di DNA Non dipende da me l'analyser È lento, guarda C'è un botto di mod mia Se il video esce in ritardo è perché Fere non trova il DNA È perché io non farò mai in tempo di editare il video Ecco l'ho trovato Stegosaurus Stegosaurus Sembra bellino No Però li lasciamo a fare anche questi Questi fossili Ok Di che magari troviamo altro DNA interessante Allora, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Stegosaurus 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 Fammi vedere Eh ma il tuo è bello È bello il mio Guardate il suo figo Fere facciamo a scambio No Ok Allora, ti ho detto che però lasciamo tutti i fossili a fare No, 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 no Così magari poi ne troviamo altri No, a me Quello il mio Quello è Abbiamo trovato degli DNA Adesso che avete il DNA Possiamo procedere al passaggio successivo Ok Al lato opposto della stanza Troverete una cesta In cui ho messo il DNA Che abbiamo precedentemente raccolto E potrete processarlo nel Cultivator Dateci un'occhiata Quindi suppongo Qua Dall'altra parte della stanza No, qua, qua, qua Qua, secondo me Sì Uh, guarda Oh, ma qui abbiamo un sacco di DNA Belli Qua, aspetta, aspetta Scegliamolo Lo Stegosaurus Io ce l'ho Tirannosauro Però anche il Velocirapt Io prendo anche il Velocirapt Allora Adesso Ha detto che dobbiamo andare nel Cultivator Culture Vat È questa roba verde Ne abbiamo due, Ferre Quindi, Ferre Dove sei? Adesso fai tu la figuraccia È questa cosa verde Fatti gli affari tu Io vado in questo Ok Quindi devi mettere Io metto quello da Tirannosauro Ah, il latte va messo sotto Ce l'hai il latte? Sì Ah, ne dobbiamo usare più di un tot C'è qua nella cesta qua a fianco, Ferre Viene consumato ogni volta Che fa tipo un tick E credo che dobbiamo costantemente ricambiare il latte Ah, ok Finché Ah 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 Allora, vi spiego Vedete che c'è questo segno del DNA Che si sta piano piano formando E c'è questo bollino Vuol dire che questo macchinario In questo momento Sta usando il latte Per creare, credo Un uovo di Tirannosauro Ok Ogni volta che il latte finisce Devo continuare a metterlo Perché stiamo cercando di Tramite il DNA Creare un uovo di Tirannosauro Per poi È bellissima sta roba Ma è pericoloso il tirannosauro Quindi sono un po' preoccupato Ma infatti tu devi prendere il tuo piccione Con le piume Guarda bene attraverso la cosa verde Oh mio Dio Che cosa fantastica Ma è troppo bellino È un cuccioletto Nooo Nel mio tu non lo vedi, vero? Nooo Anch'io non lo vedo nel tuo Però mi sa che Fammi vedere il tuo schermo È un cuccioletto uguale? Sì, mi sa che è un cuccioletto Ma che bellino che sei Ciao Bellissimo Il mio metà di neanche questo momento Quindi non sta andando male Dottor Lucas Stiamo facendo un lavorone, eh Qua stiamo per ricreare dei dinosauri Che manco voi avete ricreato No, in realtà mi sa che voi li avete già fatti Però Steph è andato male Qualcosa è andato storto Oh mamma mia Cosa vuol dire sto imprevisto, Steph? Credo possa capitare Bene Sì, sì, sì Si è rotta Ma proprio il mio doveva rompersi Aspetta, dai Ma che succede? Perché c'è questa acqua? Non lo so Credo l'acqua dell'uovo rotto Capito? Ah, l'acqua che c'era dentro Eh, Steph Ti conviene chiedere a Dottor Lucas E ti dà un altro cuttivetto Dai, sicuramente lo ripara Ma certo che lo sai riparare, Steph No, no, no Io non dovevo puntare al tirannosauro Ho abbandonato il mio piccione con gli artigli E quindi non faccio più dinosauri Aspettiamo il tuo E basta Ma no, dai lo devi fare, Steph In cosa ti trasformi? Nulla Mi trasformo in un dodo Bene, non lo so Magari vuole altro latte? Non credo Forse deve finire tutta la barretta verde Eccolo Eccolo Oh mio Dio Andiamo ad avvisare il Dottor Lucas E fare Aspetta, ecco l'uovo Guardalo Guardalo, vai Parlaci, Steph Così vede il mio uovo Allora È qui Guarda, guarda Ok, abbiamo ottenuto un uovo Finalmente avete un uovo Adesso potete andare nella stanza dei test per far schiudere l'uovo Ecco come si crea un dinosauro Divertitevi a sperimentare, veder crescere e prendervi cura dei vostri Mi sto emozionando, Steph Andiamo alla stanza Andiamo alla stanza Andiamo 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 Allora Un uovo, Steph Dai No, perché Ah, qui, guarda, Steph Metti un uovo qui Forse ha bisogno della luce per crescere? Soffongo di sì Ok Guardalo Guardalo Dovemo fare qualcosa? Non lo so Però sta ballando Quindi penso sia per nascere, Steph Non lo so Non mi attaccare quando nasci Ti prego Sono la tua mamma Si è calmato Aspetta, no Dice che non Forse qui, Steph, non c'è troppo spazio Mi ha detto che non può Non può nascere qui Ucci, pucci Ma io te l'avevo detto, Steph Avevano evidentemente bisogno di un po' più di spazio Forse sai come li abbiamo messi vicini Quindi non avevano lo spazio per poter crescere Ciao Che carino Ma è cattivo e buono? Eh, sembra buono Ci avrebbe mozzicato Eversi Oh, che mio, Steph, 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 Steph Stagli lontano, stagli lontano Lasciali lo spazio Ok, ok Mi fa una paura perché questo sarà gigante Sì Non fare un disastro, ti prego Siamo dentro un laboratorio Non lo distruggere Vediamo Ho un po' di paura, eh Anche io Ma non è così grande Ma non è così grande quanto pensavo È la cosa più carina che abbia mai visto Ma si sta pappando tutto, Steph È la cosa più carina che io abbia mai visto in vita mia Oh mio Dio Cosa ti stai mangiando? Ciao Oh mio Dio Guarda com'è tanta mio Lo posso cavalcare? No Ma siete di mangiore Ma smettila Ma avevi fame Comunque entrambi pacifici, hai visto? Sì Ovviamente i nostri dinosaurini sono appena nati E mangiando costantemente con il feeder, eccetera, eccetera Ah, sono dei baby, quindi Loro diventeranno grandi e grossi Noi infatti ci andremo a trasformare nella loro grandezza massima Quindi andiamo via da qui a fare perché è troppo pericoloso Però Consolini, se volete vederci creare altri dinosauri E se ci volete vedere, appunto, far crescere i nostri primi due dinosauri Fatecelo sapere perché possiamo valutare l'idea di portare avanti il nostro fantastico laboratorio di dinosauri Comunque, quindi vedremo un pochettino likes, commenti, sondaggi, eccetera, eccetera Vedete un po', perché a me piacciono molto i dinosauri Anche a me, anche a me Allora, quindi mi stai dicendo che in questo laboratorio, a quanto strano, devo dire Sì Non solo si impara a creare i dinosauri, ma noi, non si sa come, per quale oscura magia Ci possiamo trasformare anche nel dinosauro che abbiamo creato È una fila Ok, chiedo gli occhi, aspetta, mi metto qua, guarda la sapere Ok Quanto ci vuole, Steph? Quanto ci vuole? Un attimo Quanto ci vuole? Un attimo Hai fatto? Si è trasformato? Un attimo Un attimo Aspetta Oh mio Dio Ma tu era davvero baby allora I consolini non sanno quanto sono grande Il tuo era davvero baby Si intravede un po' dall'inquadratura Fatti vedere, ma è bellissimo poi cresciuto, è molto più bello di quando era piccolino Guardatemi Oh mio Dio Steph, dimmi nell'orecchio come si fa Dimelo Devi premere un tasto E qual è il tasto? Capiscilo Li premo tutti finché non lo trovo? Io vado Ok Ok Siamo lento Sembra uno struzzo Sembra uno struzzo Ah, l'ho trovato Mi sa che si mi sto trasformando anch'io Vedo cose strane Bene, direi di sì Sei enorme Sono lentino anche io Ma porca, ma sei enorme Infatti ti dicevo che il mio avevo infatti il sospetto che sarebbe stato enorme Però è nato baby Quindi giustamente era un cuccioletto Sei abnorme Quanto grande? Aspetta fammi vedere Oh mamma mia Non ci sto nell'inquadratura Te l'ho detto Te l'ho detto È una figata Mio Dio, è strabello Che poi prendo danni dal cactus No, no Vedete, non prendo danni perché sono un cavolo di dinosauro Che c'è il cactus Se lo mangia addirittura Ma figurati Ma figurati Ma che me frega a me In ogni caso Dai, ci fermiamo così per questo video Fateci sapere appunto Se ci volete vedere Portare avanti i nostri piccoli due baby dinosaurini E farli crescere tanto 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 E appunto cercare di farne creare anche altre Dato che ci sono tantissime specie E tantissime cose Ci fermiamo così